Bene, siamo arrivati alla fine di una bella strada, abbiamo fatto un percorso non semplice, perché abbiamo dovuto peregrinare prima nella prima lettera di Pietro, poi siamo andati a Giacomo e adesso la seconda lettera di Pietro. Oggi chiudiamo con un terzo capitolo. In questo terzo capitolo, se voi lo leggete e lo leggete di seguito, non vi raccapizzate, perché sembra un enorme vaso di martellata dove c'è di tutto. Mentre invece, quando noi leggiamo un testo, abbiamo bisogno di capire quello che è la disposizione del pensiero e quindi seguire una specie di itinerario come se fossimo dentro la testa dell'autore. Se noi prestiamo attenzione e leggiamo con calma, perché questo è sempre il presupposto, noi troviamo quattro carissimi. Certo, non mi ha riferito i dentisti. Il primo lo troviamo nel primo versetto, il secondo nell'ottavo, nel quattordicesimo versetto e poi nel diciassettesimo. Quindi noi abbiamo già una specie di respiro che l'autore fa, probabilmente questa parte è stata scritta di getto, e quindi questi carissimi costituiscono una specie di segnale di inizio di un nuovo discorso. Questo tipo di scansione permette di dire che il bravo che adesso stiamo per leggere sviluppa questi concetti. Nei primi sette versetti, lui affronta il tema del ricordo, ricordare e dimenticare, e lega la retta dottrina al ricordare. Lega invece l'eresia al dimenticare, tradotto. Lui dice, e qui notiamo la grossa differenza tra chi scrive e gli apostoli, lui non si considera un apostolo. Ecco perché è chiarissimo che la seconda lettera di Pietro non è di Pietro, lo vedremo insieme. Dice che gli apostoli hanno insegnato, i profeti hanno profetizzato, gli apostoli hanno insegnato e ogni credente deve ricordare sia le profezie sia l'insegnamento degli apostoli. Allora, ricordando queste cose, uno permane sempre nella retta via, cioè ragiona in maniera corretta sulle verità di fede. Chi invece dimentica sia le profezie sia l'insegnamento degli apostoli, si inventa una religione fai da te. E quindi escono fuori le eresie. Nella seconda parte di questo capitolo noi dovremo affrontare un concetto che non ci è familiare, il concetto di tempo, gli ebrei avevano chiarissimo che per Dio mille anni come il giorno di ieri che è passato, mentre per noi il tempo ha un suo valore. ed è il brano in cui compare il tema del giorno del Signore, che non è un tema proprio carinissimo, perché dire parousia significa dire sempre l'ultimo giorno della storia, però dire parousia significa vedere quel giorno come il giorno in cui noi reincontreremo Gesù Cristo. Chiamare quel giorno giorno del Signore vuol dire che è il giorno del giudizio, in cui Dio separerà le pecore dai capri, tanto per tenere l'immagine del capitolo 25 di Matteo. e quindi il nostro autore ci presenta l'ultimo giorno della storia come un giorno severo. Luca invece lo presenta per noi credenti come un giorno di serenità, severo per gli altri e per noi sereno. in questi traversetti successivi noi troviamo da una parte l'illustrazione della magnanimità di Dio, cioè Dio non è quello che ti incastra. Adesso sei nel pantano, non puoi più muoverti, arrivo io e ti do quattro schiafoni che meritavi da sempre. Sei già nella situazione difficile e Dio aumenta questa tua situazione difficile, non è così. E qui vedremo che cosa si intende per magnanimità. E sempre in questo testo la magnanimità è legata alla buona interpretazione degli spiriti di Paolo e delle scritture. Mentre invece la non comprensione della magnanimità è legata alla non comprensione di ciò che scrive Paolo e ciò che scrive le scritture. E poi l'ultima parte, quella conclusiva, come fa il buon parroco alla fine della predica, c'è l'esaltazione. E l'esaltazione è estremamente strana. Crescere nella conoscenza. Mentre Paolo esaltava a crescere nella fede, a crescere nella carità, questo signore dice, no, 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 tu non puoi crescere nella carità e nella fede se non conosci il modello. E quindi, tu cristiano, devi conoscere. Altrimenti, alla domanda a Cristo a posto mio cosa farebbe? Rispondi un bel niente. Vi è chiaro di che morte moriremo? Bene. Non so quanto si veda, perché per risparmiare un ramo di un albero che ho messo i caratteri piccoli. Altrimenti, invece di due facciate venivano tre. Tre vuol dire un altro foglio, vuol dire il doppio del materiale cartaceo. E quindi un ramo di un albero sarebbe andato. Questa, carissimi, è la seconda lettera che vi scrivo. E in tutte e due, con i miei avvertimenti, cerco di ritestare in voi il giusto modo di pensare. Perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e dal prezetto del Signore Salvatore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Ma dice che io vi ho trasmesso. Da questa frase voi riuscite a capire come c'è una distanza tra chi scrive e questa fonte di verità. Poi permettetemi, perché il solito pignolo lo spiego con l'implice. L'italiano ha tradotto il giusto modo di pensare «Ten e l'igrinee dianoia». Il modo di pensare è la «dianoia». Ma «ei l'igrinee» non vuol dire «giusto». Ma vuol dire «puro». «Vero». Non «giusto». Se voi volete esprimere il concetto di «giusto» in credo avete la radice «duc». «Ducche», «dicaiosine», «dicaios». «dicaiosine». Mentre invece «ei l'igrinee» indica qualcosa di puro, qualcosa di vero. E allora vedete voi più che il giusto modo di pensare, il modo di pensare vero, puro. poi questo perché vi ricordiate viene adoperato il classico verbo della memoria, «minnesco». «Mimnesco» non è il ricordare nostro, sempre se vogliamo essere pignoli, ma è il memorizzare. quando noi diciamo ricordare ormai siamo superficiali, non pensiamo più alle parole, ma con ricordare mettiamo insieme testa e cuore, ricordare, riportare il corpo. E quindi ricordiamo concetti, maglie, emozioni. e invece memorizzare lì e basta. Ed è questo che il nostro autore vuole. Tenere il memoria. Uno dei problemi odierni della didattica qualunque essa sia, dalle elementari all'università, dalle informazioni scientifiche a quelle catechistiche, oggi il problema è la memoria. Avete capito? Sì, professore, abbiamo capito. Una volta dopo vi chiedi è come se fosse passata la ruspa e avesse azzerato tutto. E allora uno cita papà Dante a nulla vale senza ritenerla ben inteso. Non lo capisco. vi deve fare la traduzione dell'italiano. Non vale nulla l'avere inteso il capire senza lo ritenere, senza il memorizzare. Siamo un pochettino preoccupati perché se non c'è memoria non c'è cultura provate ad assolutizzare leggermente il principio. Se uno non ricorda la vita incomincia da capo ogni mattina. Ogni mattina dobbiamo reimparare come ci si lava, come ci si nutre, come ci si veste. Siamo avanti. La memoria è parte integrata dell'esistenza. Noi le stiamo perdendo perché ci sono quelle macchinette maledette che si chiamano smartphone, iPhone, tablet, un zonato. Questi sono strumenti ma la vera testa è dentro la scatola cranica non dentro un aggeggio di bacchelite. oggi ho un problema io vedo i miei studenti quando tu cerchi di richiamare nozioni grammaticali dell'ebraico del greco elementare per l'amor di Dio la comunità cristiana vive lo stesso però questa gente cosa insegnerà se non mastica le lingue originali per cui spiegare alla gente come stanno le cose un dottore che dice adesso ti ho visitato e vado a vedere un'altra volta i miei manuali per fare la diagnosi wow io posso capire quando ci sono casi estremamente complessi c'è sempre bisogno di ricorrere per sicurezza ma la prassi normale è che il medico ti visita e gli dice qui siamo più o meno in questa zona di malattia un ingegnere che progetta e dice no aspetta torno ai manuali perché non ricordo wow è un problema questa è la nostra società futura se non cambia qualcosa la memoria io non ho memoria chiaro non posso dottelare il linguaggio fonico il linguaggio fonico è molto universitario la memoria non è come il sapore il sapore più lo adoperi più lo consumi la memoria più lo adoperi più lo rafforzi io ancora oggi mi diverto a imparare qualcosa a memoria solo per il gusto di imparare di tenere la capoccia allenata è brutto dirlo ma il cervello è più o meno equiparabile a un muscolo se lo doperi il muscolo resta elastico e se no già perché vi ricordiate delle parole dette dai profeti e dal precetto del salvatore però trasmesso trasmesso dagli apostoli bene questo siamo al versetto 3 questo anzitutto dovete sapere non c'è il verbo sapere in greco c'è il verbo ginos contes ginos conoscer non sapere conoscere questo anzitutto dovete conoscere sapere negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e inganna gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni diranno dov'è la venuta che gli ha promesso dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi tutto rimane come al principio della creazione ma costoro volontariamente dimenticano l'anzanei zelontas volontariamente vogliono zelo significa volere in greco vogliono dimenticare traduzione traduzione italiana è molto buona perché ha introdotto il participio con un avverbio ma costoro volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già da lungo tempo e che la terra uscita dall'acqua in mezzo all'acqua ricevete la sua forma grazie alla parola di Dio e che per le stesse ragioni il mondo di allora sommerso dall'acqua quando è in rovina diluia ora i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola e quindi questa parola di Dio è ciò che sostiene l'universo ma anche ciò che la madera è in rovina non sono fatti automatici o prevedibili perché quando Dio cesserà di pronunciare la sua parola creativa il mondo dice il testo di Pietro sarà riservato al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi non vostra dei malvagi certamente qui c'è una visione filosofica non una visione teologica questa frasetta riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi è molto stoica faremo una breve considerazione tra cultura profana e cultura teologica il secondo carissimi una cosa però non dovete perdere di vista carissimi davanti al Signore un solo giorno e come mille anni e mille anni come un solo giorno Einstein qui si troverebbe benissimo Davide tutto veramente il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa anche se alcuni parlano di lentezza e gli invece e manianimo con voi perché non vuole che alcuno si perda ma che tutti abbiano modo di cambiare testa non è il perdimento questo metà noi ha non è il perdimento è la conversione e quindi abbiano un modo di convertirsi io quando vedo queste cose qua mi arrabbi perché ma torrenato che differenza c'è convertirsi e pentirsi abissale perché convertirsi vuol dire ho sbagliato e cambio testa e quindi non sbaglio più pentirsi significa sono preso dei sensi di colpa oddio cosa ho fatto però non ho detto che tu cambi gli sms si stanno privati del gusto della precisione del vocabolo e quando il vocabolo non è preciso il messaggio non è preciso e se il messaggio non è preciso non ti arriva l'informazione corretta il gioco del Signore e colguardo verrà come un ladro allora i cieli spariranno in un grande boato gli elementi consumati dal calore si risolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio voi che cavolo fate per affrettare la fine del mondo yes quindi non state a dire che siete innocenti la vostra affrettata era venuto del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno wow una titanica e cospica pirosis una casella gigante noi infatti secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abita la giustizia qui ci fermeremo un momentino ci possiamo fermare anche adesso quando noi pensiamo al paradiso animelle di qua animelle di là apri un cassetto vengono fuori tre amine che so io apri la porta non è così ricordiamoci che il nostro fine ultimo è la risurrezione la risurrezione vuol dire che noi avremo un nuovo corpo certo non come questo il modello del corpo che avremo è il Cristo risolto poteva essere abbracciato certo Maria Magdalena l'ha fatto le donne gli hanno baciato i piedi fuori del sepolcro Tommaso non ha messo il dito nella mano basta leggere con attenzione voleva farlo questo sì ma poi quando gli arriva il capo resta fulminato mangia come i suoi discepoli proprio per dimostrare che non è un fantasma addirittura fa il cuoco perché lui che prepara il pesce arrostito e arriva al lago come lo abbia preparato solo Dio lo sa quindi c'è qualcosa di fisico ma è un fisico che non appartiene alla nostra fisicità perché lì con i discepoli di Emma spezza il pane e puff sparisce dagli oroni i discepoli sono pieni di fifa dentro il cenacolo hanno la porta sparrata e lui arriva tranquillo quindi che tipo di fisicità è? non lo sappiamo di fisicità si tratta ma non una fisicità come la nostra dire di più vuol dire dire stupidaci e quindi se esiste una realtà che non è solo e unicamente puro spirito esisterà non c'è rimuovia per rimuovere che cose tendessero dire gli scrittori apocalittici perché qui l'autore della seconda lettera di Pietro prende a prestito anche qualche cosa di apocalittico è un'espressione che indica un mondo reale che non è l'attuale riveduto e corretto ma è tutt'altra cosa questo intendono dire forse nel concetto apocalittico di Cieli Nuovi e Terra Nuova può aver influito in maniera indiretta può aver influito di striscio il medio platonismo del primo secolo dove nell'aldilà c'è l'ideale gli apocalittico gli apocalittici pensano i Cieli Nuovi e la Terra Nuova come un mondo ideale non ci sarà un fiore soltanto certamente perché iperuraino di Platone ci sono un fiore che è perfetto gli altri sono nostri tentativo di imitazione che scollore un fiore solo perfetto che scollore i nostri amici invece parlano di nuovi Cieli e Nuova Terra una realtà fisica ma non come la fisicità nostra terzo carissimi perciò carissimi nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace senza colpa e senza macchie la maniabilità del Signore nostro consideratela come salvezza così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo secondo la sapienza che gli è stata data come in tutte le lettere nelle quali gli parla di queste cose in esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere come no e qui il nostro amico è devastante che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina ce n'è abbastanza per capire che quando si legge il testo biblico o hai un po' di fede quindi non sei un incerto e hai un minimo di preparazione allora quella parola parla altrimenti dice delle cose che ti porteranno alla apoglia vuol dire da nazione eterna tanto per capirci chiaro ultimo carissimi voi dunque carissimi siete stati avvertiti provate a leggere con pazienza questa parola greca chilometrica pro ghi nos contes avete un'altra volta il verbo ghi gnosco conoscere l'abbiamo già trovato prima quando dice dovete sapere dovete sapere un corno dovete conoscere dia noeo pensare dovete sapere no perché ghi nos contes e qui invece avete pro ghi nos contes cioè siete stati preconosciuti o preconoscenti perché questo è il participio attivo state bene attenti a non venire meno nella vostra fermezza tra volte anche voi dall'errore dei malvagi crescente crescente invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo grazie grazie cariti e gnosei stessa radice di gnose a a lui la gloria ora nel giorno dell'eternità amen fino nel capitolo adesso noi esploreremo questi testi che sono interessanti perché una volta che li abbiamo enucreati noi prendiamo dal versetto 1 al versetto 7 e sappiamo che qui c'è una unità di pensiero dall'8 al 13 una seconda unità di pensiero dal 14 al 16 una terza e poi le raccomandazioni finali bene questo è il testo queste sono le piccole annotazioni che ho fatto per il testo le piccole annotazioni si trovano alla riga 89 e il testo dalla riga 56 alla riga 65 la prima cosa che si ricava è questo dato la fede è legata al giusto modo di pensare prima io vi ho fatto un'osservazione di tipo filologico questo giusto e qui verrebbe a puro sincero modo di pensare dunque la fede non è un sentimento è anche quello ma qua è ridurre la fede a un sentimento la fede è una conviv... un passo indietro la fede è un dono punto ma poi si traduce come presenza dentro di noi in profonda cognizione intellettuale ed emozionale se noi oggi dovessimo fare un esame sociologico noi ci accorgeremo che moltissime persone ritengono che la fede sia un fondamento emozionale e invece non è così il grosso problema della fede oggi è che non si può coniugare queste due potenze che noi abbiamo dentro di noi intellettualità ed emozionalità l'intellettualità costa fatica l'emozionalità no perché l'emozionalità te la trovi mentre invece l'intellettualità te la costruisci allora è molto più facile avere le spinte emozionali della devozione o quanto mi piace lo scapolare della madonna del caroneo va bene per l'amore del cielo come uno che dice io preferisco che so io la cava al tulipano va bene tutto il diritto di preferirlo ma non confondere l'emozione con la convinzione intellettuale perché il suo primo amico cioè chi ha scritto la prima lettera di Pietro dice con chiorezza che noi dobbiamo essere capaci di rendere ragione rendere ragione vuol dire ragionare vuol dire saper fare una dimostrazione logica io scherzo spesso anche in predica quando dico adesso scendo giù in parola del maledetto vizio di chi insegna tutta una vita ma guardate perché qualche volta io sarei proprio tontato di farlo quindi prima o dopo è povero o povera colui o come in che becco come nemmeno rilassato no sono rilassato di sé rendere ragione credetemi oggi è diventato qualche cosa di necessario mercoledì sera su uno dei canali non mi ricordo più se era National Geographic channel ma visto in channel quei canali di cultura c'era il mio amico di Freddy no guarda la maggiore oh ragazzi la gente si sconda con lui mica voi mica me e stava spiegando la potenza infinita dei numeri a me è venuto da ridere ho cambiato canale dicono ma questo è scemo perché quando ha finito di dimostrare tutta la potenza infinita dei numeri il babbino di prima elementare dice più uno e la tua potenza infinita è andata in quel paese capite? i numeri sono indefiniti non infiniti perché quando tu hai dimostrato l'elemento numero come infinito il bambino ha tutta questa bella dimostrazione e ti dice eh io scrivo più uno dove sta l'infinitezza allora? se un pupo dell'elementare può scrivere accanto a tutto questo più uno noi non siamo in grado non solo di fare la battuta più uno in modo da smontare con una battuta tutto questo ragionamento ma non siamo neanche in grado di intuire immediatamente che tutto ciò che appartiene al mondo creato è misurabile e tutto ciò che è misurabile non è infinito ci mancano gli strumenti per misurarlo questo è vero ma non significa che non sia misurabile perché se è misurabile un pezzo è misurabile tutto gli ebrei che erano ignorantini questo però lo avevano capito per cui Dio nessuno l'ha mai visto proprio perché è infinito come fai e allora quando uno dice di aver visto Dio eh no tu hai visto la cabot di Dio la gloria di Dio tu hai visto la sapienza l'automale di Dio tu hai visto l'angelo di Dio ma Dio non l'hai visto va bene dicevamo dunque che la capacità dimostrativa la dobbiamo avere tu credi? sì è chiaro che tu non hai la formazione del teologo e qualche volta ringraziate Dio ma quella formazione di base fondamentale della tua fede la devi avere ogni tanto si legge in qualche distancia la parrucchiera lì i Vangeli sono stati scritti nel Medioevo no? perché no? perché abbiamo gli aperti archeologici interessandolo alla chiesa nascente abbiamo i papiri nei vari musei li trovate e questi papiri non sono datati dal parroco sono datati da istituti scientifici compresa l'università Romorosov di Mosca quando era atea le datazioni di papiri non sono ecclesiastiche o rabbiniche o musulmane sono datazioni scientifiche come l'identificazione del papiro cioè cosa è scritto lì? ricordare che noi abbiamo come testo più antico dell'antico testamento le lamelle d'argento del sesto secolo dove c'è il brano del libro dei numeri capitolo sesto non occorre avere lerni al cervello per ricordarlo sesto secolo avanti o ricordare il papiro rai lato p52 con il testo del capitolo 18 di Giovanni del 120 dopo Cristo ogni volta che lo vedo mi commuono perché dico vent'anni prima Giovanni pubblica il Vangelo e vent'anni dopo c'era già questo testo qua che appartenga a una copia o che appartenga a quelle copie che appartenevano all'edizione del centro pubblicare vuol dire mettere in commercio delle copie e quindi quando un autore scriveva un'opera poi andava in uno scrittorio e dettava la sua opera e venivano fuori tante copie quando erano gli emanuenzi di solito tra i 70 e i 100 noi possediamo questo papiro che è del 120 appartiene a questa prima sfornata o appartiene alla seconda sfornata boh ma comunque siamo lì e il 120 dopo Cristo non è il medio euro e poi venite avanti e trovate i papiri di Cester Bitti che sono della fine del secondo secolo e poi trovate i papiri Bodmer che sono del terzo secolo e poi trovate i primi grandi codici del quarto secolo cucù non siamo ancora nel medioevo voi avete sentito parlare del codice sinaitico del codice alessandrino sono tutti i testi completi di antico e nuovo testamento greco in questo caso che sono uno del 350 l'altro del 360 non siamo nel medioevo il medioevo capiterà un secolo abbondante dopo bisogna sapere queste cose allora Renato io sono devoto alla Madonna e fai bene ma i nostri vecchi padri dicevano uno un faccere altri uno un mittere tieni la devozione ti fa bene ma impari non perché impari devi lasciare la devozione ci manca le altre ma non perché hai la devozione sei giustificato a non conoscere bene ricordare e qui voi notate che mentre voi siete chiamati a ricordare per rimanere nel modo vero di pensare coloro che volontariamente dimenticano dicono cavolate ecco in questo breve testo se noi volessimo chiedere qual è il genotesto qual è l'idea fondamentale che l'autore aveva in testa questa il conoscere ti fa rimanere dentro all'alveo della fede corretta il dimenticare ciò che dovresti invece sapere ti porta alla devianza qual è il principio di Lutero nei confronti della scrittura l'interpretazione personale sola scrittura è interpretatio personalis abbiate un po' di pazienza andate la linea 110 sappiate anzitutto questo nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione se io avessi Martino Lutero come studente doveva fare gli esami con me vi chiederei tesoro o scontro tu parti dal principio sola scrittura sì o sì però mi risponde e poi affermi che l'interpretazione deve essere personale sì o sì sì e la scrittura dice no allora uno dei due è sbagliato capite? ieri mi sono commosso perché subito dopo messa alla comunità del Beato Dorico alcune persone della comunità del Beato Dorico mi hanno presentato una fringuellina una mammina attascabile luterana la quale mi ha detto io voglio diventare cattolica io ho pensato detto di me tesoro non sai a cosa vai in contro ma una delle prime cose sulle quali converseremo sarà proprio questa la sola scrittura è una posizione corretta o no? domanda no perché? se noi ricordassimo quando è stato detto due anni fa ciao come nasce il testo biblico? Gesù dice ai discepoli andate fate i miei discepoli e tutte le genti battezzando e insegnando didaschei e abbiamo la predicazione apostolica verso gli anni quaranta succede qualcosa che non va bene la persecuzione di Erode Antippa I nei confronti degli ebrei di lingua greca convertiti al cristianesimo e lernisti i quali vistisi perseguitati da Gerusalemme vanno a finire ad Antiochia e fondano questa grande comunità aperta di testa progressista quasi contemporaneamente pochi anni prima quattro Paolo riceve la botta ad Amasco e nella lettera di D'Arati Paolo dice io predico un Vangelo che non ho imparato da nessuno degli apostoli perché il Vangelo che io predico è quello che lui mi ha trasmesso in maniera immediata quando ho avuto quell'esperienza mistica e Paolo andrà a Gerusalemme a confrontarsi con gli apostoli dicendo Cristo mi ha dato questo Vangelo e guarda caso era lo stesso degli apostoli ma Paolo ha una terza mentalità collegio apostolico con un certo tipo di predicazione Antiochia un altro tipo di predicazione ma sempre dello stesso contenuto e Paolo un terzo da questa specie di grande variante nascono i Vangeli perché Marco tenta di fare la sintesi tra apostoli e Antiochia Matteo cerca di fare la sintesi tra Antiochia e Paolo però poi ha una sua fonte particolare e Luca anche lui tenta di fare la sintesi tra Antiochia e Paolo ma con un'altra fonte particolare quando io conosco come nascono i Vangeli capisco che non posso studiare i Vangeli senza studiare i Vangeli dentro la tradizione apostolica e siccome non tutta la tradizione apostolica è andata a finire nei testi biblici perché una grande parte è andata a finire nella liturgia un'altra parte è andata a finire nei scritti dei primi padri apostolici tra l'altro io voglio capire quelle pagine e devo conoscere benissimo la liturgia e gli scritti dei primi padri allora io ho il contesto corretto per capire dove è nato quel testo perché se mi manca il contesto io il testo non lo capisco Dio non c'è bravo tu leggi il contesto lo storico dice due punti Dio non c'è allora dai il valore a quella frase ma se tu la prendi le strappoli la fai diventare un assoluto e non la leggi nel suo contesto fai un ragionamento semplice la Bibbia dice la verità circa Dio sì la Bibbia dice Dio non c'è finito ci siete? per questo non si può leggere la sola scrittura interpretazione privata no è la scrittura stessa che dice stai attento ed è la tradizione stessa che dice no la scrittura si legge in comunità e in comunità c'è la mamma di famiglia che la legge la interpreta c'è il papà c'è il professore universitario c'è chi ha fatto la quinta elementare c'è il mistico e c'è invece l'operatore della carità ognuno porta la sua comprensione e nell'insieme viene fuori il senso della parola di Dio ma non basta noi di Cristo ringraziando il cielo no abbiamo diritto di imperfezione